Quello di oggi sarà un po' spartita molto molto particolare perché sarà difficile farlo ragazzi, sarà difficile parlare di questa Juve qui, sarà molto molto complicato, da cosa parti? Parti dal fatto che hai fatto 0 punti, dai ci togliamo il dente, parti dai 0 punti, parti da una sconfitta, parti da una sconfitta che è una formazione molto strana all'interno di una partita che è stata siccome molto strana perché io oggi avevo delle bruttissime sensazioni, ero convinto di perderla, lo sapete ve ne avevo assolutamente parlato, ero convinto che la Juventus avrebbe fatto 0 punti, ma ero anche convinto che la Juventus non potesse avere così tante occasioni da gol E oggi la Juventus di occasioni da gol ne ha avute, neanche tante, non è riuscita a concretizzarle, dispiace perché Vlaovic è stato il trascinatore della Juve in questa seconda parte di stagione e oggi si è ritrovato delle occasioni che per lui erano anche abbastanza comode e che non sono state trasformate e questo va a fare il contrappeso se vogliamo a quella statistica inerente a Vlaovic che andava a finalizzare molto più rispetto alle palle gol che gli arrivavano Quindi oggi è andato a ribilanciare, possiamo dire così statisticamente, quello che era stato Dusan Vlaovic Una Juventus che ha una formazione, ripeto, particolare e secondo me oggi si è visto quel pochino in più di voglia di provare a fare un tipo di partita diversa, a preparare un tipo di partita diversa Una partita molto più verticale, troppo verticale a tratti perché la Juventus cercava spesso e volentieri di andare anche di prima a cercare la profondità degli attaccanti E qui entra secondo me in gioco il grande problema della Juventus e poi ci arriviamo Ma la cosa che veramente mi fa rabbia, anzi non è la cosa che più di tutte mi fa rabbia perché in quella ci arriviamo sul finale, la roba che mi fa rabbia è che si arrivi al 3 marzo 24 del terzo anno di questa guida tecnica In cui proviamo a fare dal niente dopo così un tipo di, ma neanche idea, di approccio, che è un approccio elementare banale con proprio poche cose Però ci proviamo il 3 di marzo, dopo che quest'estate eravamo partiti con l'idea di fare qualcosa di diverso Andiamo a Sassuolo, ne prendiamo 4, cambiamo totalmente tutti dietro, l'importante è non prenderlo E poi oggi ci provi Però questo ti deve insegnare una cosa Ti deve insegnare che se la Juventus prova ad abbandonare un pochettino l'idea che cavolo il gol non lo devi prendere Provi ad andare più in avanti, c'è caso che il gol tu lo faccia C'è caso che il gol tu lo faccia perché magari ti capitano 5, 6, 7 occasioni da gol tutte le partite E magari le partite le riesci anche a chiudere, riesci a vincere con più di un gol di scarto Come tante volte è accaduta in questa stagione Purtroppo quando lo fai una volta ogni tanto e quello ogni tanto è troppo poco Poi questo è l'output Poi ripeto non è stata una Juve che ha fatto chissà che cosa Perché per me il riassunto della partita è il seguente La Juve che ha avuto le occasioni più grosse anche se vogliamo Delle occasioni veramente molto grosse, colossali Però il Napoli è stato più convincente Il Napoli è stato più concreto ma soprattutto più convincente Il Napoli è stato più ordinato, è stato più organizzato E il Napoli ragazzi è alla quarta partita Che è con una guida tecnica La quarta partita che è con una guida tecnica La quarta e non ha nemmeno lavorato in settimana Perché gli è capitato Barcellona Dopo tre giorni il Cagliari Dopo tre giorni il Sassuoli Dopo tre giorni la Juventus Quindi avrà messo mano sul minimo indispensabile Per ritornare magari anche a quelli che erano i preconcetti Di spalletti dell'anno scorso Due settimane che Calzone ha preso in mano il Napoli Due settimane Cavolo Due settimane E quelle piccole cose Le ha ritirate fuori E il Napoli è più convincente perché Quando ha la palla sa cosa fare È organizzato, è strutturato Noi andiamo a vedere le statistiche della Juventus Guarda ve le vado a recuperare Voglio recuperarvele perché Questa roba è emblematica Non è possibile che il Napoli faccia In tutta la partita Ecco adesso purtroppo non c'è la statistica Provo a vedere un altro sito E vediamo se riusciamo a trovarla No purtroppo non c'è La Juventus ha fatto 200 passaggi Comunque dovrebbe essere questo Ecco 199 la Juventus contro 580 del Napoli Che significa che il Napoli Sa costruire Napoli sa costruire Cioè se la Juventus Allegri non si mette nella testa Che non può essere Solo Il pressing che stasera abbiamo visto Perché la Juventus ha provato a fare una partita Ripeto diversa Dalle ultimissime O La ripartenza Cerchiamo di fare anche il passettino in avanti Rispetto alla solita banalizzazione Estremizzazione del Eh ma i giocatori che abbiamo Ragazzi Bisogna anche rendersi conto Bisogna veramente arrivare a rendersi conto Arrivati a questo punto Che Nelle ultime 5 partite che abbiamo fatto Cioè io prendo in esame l'ultima che abbiamo vinto Che era quella col Frosinone Ma il Frosinone Era organizzato da quel punto di vista C'è i giocatori più forti della Juve C'è i giocatori più forti della Juve Quindi magari quelle occasioni che ti sei mangiato Che oggi te le sei mangiate Punto stop Ci sono delle grandi responsabilità Sui giocatori Stop Però C'è anche caso Che si arrivi anche in condizioni migliori Poi non significa che Oggi Hai fatto gol Perché Non fai possesso palla O non fai abbastanza passaggi Cercate di capirlo Perché non è quello che vi sto cercando di dire Vi sto cercando di dire Che La Juventus È sempre la squadra Perché quando affronta un'altra squadra È quella meno convincente E oggi abbiamo affrontato una squadra Che in mano Un allenatore Da Dieci giorni E ha giocato Quattro partite in dieci giorni In due settimane Quello che è Quattordici giorni Quattro minuti di 4-3-3 Che non è il modulo che cambia Non è il modulo che cambia Ovviamente non è il modulo che cambia Ma quando inizi a mettere I giocatori nelle loro condizioni Di far meglio Forse qualcosa succede Io sono contentissimo Che Federico Chiesa Oggi mi abbia Preso per un orecchio E detto Hai visto che cosa sono? Perché io stamattina L'ho detto anche stamattina Per me Nel 3-5-2 Chiesa Oggi Non è in condizioni fisiche Di giocare Ha fatto 90 minuti Perfetto Federico Cazzo bravo Sono contento Anche perché È vero Ripeto Nel 3-5-2 Oggi faccio partire Ildis Però vi ho anche sempre detto Che La mia idea è fare 4-3-3 Allora se fai 4-3-3 Chiesa Non può non giocare 4 minuti Di 4-3-3 Con Chiesa Ildis Perché è la cosa Che mi dispiace più di tutte Cioè Al di là di aver perso la partita Bisogna un po' Che ci stacchiamo Ci discostiamo Da 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 questo estremismo Di risultatismo Vi spiego Quando C'è il doppio cambio Il disnonge Ero la persona più felice Del mondo Perché ho detto Senti Vai a responsabilizzarli Bravi che lo mettete dentro Bravissimi È giusto metterli dentro In questa situazione difficile Per la Juve Ci sta Metteteli dentro Non ci fa un'ingenuità Non stiamo qui a prenderci per il culo Non stiamo qui a prenderci per il culo Diciamoci le cose come stanno Non ci fa un'ingenuità Fa un calcio di rigore Che è ingenuo Manalmente Un calcio di rigore Che è ingenuo Però se Tu butti dentro un 2005 Che ha 19 anni Non li ha ancora compiuti Perché sei in una situazione di emergenza E dici Guarda Situazione di emergenza Comunque ti metto dentro Ti do quella responsabilità lì Ti fa il fallo da rigore Nonge quanto ha giocato Cioè vorrei veramente capire Il numero di minuti esatti Giocati da Nonge Perché Non lo so Non so quanti sono stati Non lo so davvero Quanti ne ha giocati Settantasesimo entrato Novantesimo uscito Quattordici Quattordici minuti Che segnale gli dai Cioè che Che cosa gli passi Ma lo ammazzi Ragazzi Lo uccidi Non esiste sta roba Ieri Allegri Mi dice che dobbiamo fare 13 punti Per arrivare in Champions Ma Dio santo Li facciamo Sti 13 punti Per arrivare in Champions Li facciamo Li faremo La cosa più importante Di questa stagione Però Non è mica Arrivare in Champions Ragazzi Non prendiamoci in giro Ormai questa stagione Sta roba qua Ormai questa stagione Andiamo a raschiare Il fondo del barrile Dicendo speriamo Nella Coppa Italia Ancora una volta Non illudiamoci Non facciamoci Prendere per i fondelli E la cosa importante Di questa stagione È che comunque Si riesca a creare Una base Per il futuro E la base Per il futuro La crei così Cioè Per me È francamente Imbarazzante È una roba Che non Non posso accettare Non posso accettare E mi dispiace Perché stasera All'interno Di una partita In cui si erano avvertiti I presupposti Di voler provare A invertire un po' La tendenza In ritardo Con concetti banali Con concetti elementari Che non possono arrivare A marzo Sì 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 E sì Però la volontà Di almeno avere Le palle Di andare a Napoli E non farsi Prendere in giro Da osi man Che ti vieni a fare Alzati Alzati E ti fa tutte Le robe Che sono insopportabili Anche almeno solo Quel gusto Di rivalsa Quella sana roba Da tifoso O comunque Da campo Quella roba Di sangue Di sangue Poi ribadiscono Io oggi Le occasioni Le avute Ma certo Che le avute Però ragazzi Quando è che inizieremo Anche a essere La squadra Che convince E che non Ha solo Le occasioni Perché poi Allora banalmente Prendi alle occasioni Tante volte Si parla di Tiri in porta Semplicemente Fino al primo tempo La Juve ha fatto Un tiro in porta Uno Che è il doppio passo Dehling Che tira una ciofeca Ai due all'ora In bocca Meret E ci sono tre Palle Che sono invece Uscite Un palo Di Vlaovic Sullo scavetto Meraviglioso Lì Ha fatto il massimo Che poteva fare Un colpo di testa Che è andato alto E poi L'altra palla Sull'uscita Di Rugani Che anche lì Rugani Vedi Cioè Dopo ci arriviamo E la spara alta E allora Non è La statistica Del tiro in porta Sono le occasioni a gol E la Juve le ha avute Indubbiamente Però sono occasioni Che la Juve Non riesce a creare In serie E sempre Napoli Napoli ha dato la sensazione Di poterlo fare Poi la Juve prende un gol Ragazzi Con Bremer Che mette fuori la palla In esterna Dove la deve mettere Cambiaso Che è distante Dal marcatore Vara La tira Becca al piede Di Cambiaso C'è la deviazione La mette nell'angolino A Scesni Che diventa imprendibile Rugani Anzi Prima di Rugani Il rigore Perché almeno Scesni Ci aveva dato Quella Minima speranza Di uscire Dal Maradona Con Almeno Non perdere Perché L'è andata a prendere Quel brutto rigore Di Ossimè Poi Raspadori Ormai È una nostra bestia nera C'è poco da fare È una nostra bestia nera E secondo me È emblematico Che ci sia anche Una corsa Della Juventus In area di rigore Mentre parte il rigore Di Ossimè Prima dei giocatori Del Napoli E che poi invece Entrino prima i giocatori Del Napoli In area di rigore Tant'è che Raspadori È quello che ci crede Più di tutti Sia del Napoli Che della Juve E anticipa tutti Partendo da più Dietro di tutti E comunque Ci arriva prima E quella roba lì Che cos'è ragazzi Quella roba lì Ardore Di Raspadori Ci ha creduto di più Ed è un bel peccato Perché Shesney Aveva già fatto Il massimo Poi la puoi pareggiare Sull'occasione Capitata a Rugani All'ultimo Eh ragazzi È un flashback È un bel flashback Anche in casa Col Frosinone Anzi Quello di oggi Era più facile Rispetto a quello Col Frosinone Però non è che Ci possiamo sempre Solo aggrappare Ai mischioni E all'ultimo Secondo Le occasioni E al difensore Che ti va in aria E basta Cioè Se non ci discostiamo Dal fatto che Non sono i 13 punti Ma È come arrivi A portarti dietro Questi giocatori Anche per le prossime stagioni E quindi far crescere Questi giocatori E quindi Nonge sbaglia Non lo togli Ma cazzo Ma quante volte Ha sbagliato Alexandro Danilo Schesni Rabiot Sto citando Quelli che hanno Più anni Nella rosa E sono questi qua Benomale Perin Li togli Ma no Ma non si fa così Non si può fare così Non può essere questo Non può essere questo E se non impariamo Che nel calcio C'è anche altro Oltre all'occasione Da gol Non ne veniamo fuori Mi dispiace Questa è un po' L'analisi Del mio Napoli-Juve Fatemi sapere Se siete d'accordo con me Oppure no Oltre all'occasione